Grazie a tutti Gioetta, Pagliu, Signore, Pagliu, Luizzi, Assurdo, Patrimi. Signora Pagliu, Pagliu, Al Zotto. Grazie. Ok, sei sopra di due, senta qui l'ora. Fira il braccio sinistro, mano sulla faccia, fira il giro. Bravo lì. Va bene tu eh, devi essere un pochino più attivo adesso. Bravo. Puoi anche uscire tutto fuori e riaccalziare. Occhio a quel... Rimetti il dallo in mezzo. Bravo. Non le mani sulle macchine. Esci fuori, bravo. Occhio, occhio, occhio. Sgancia, sgancia. Va bene, va bene. Edo, non ne mancano tre minuti, sei tranquillo. Più azione, lì sembri passivo. Puoi anche alzarti i piedi se vuoi eh. Occhio lì, occhio lì. Bravo. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Va bene Liedo eh. Sei a metà, va benissimo. Va benissimo Liedo. Occhio, 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 occhio. Se non ti piace, riaccati in piedi e vattene. Se non ti piace, ti riaccati in piedi e che ne vai eh. Oh Piedo, bravo. Riaccati in piedi e vai via. Bravo, bravo. Va bene. Va bene Edo eh. Adesso controlla bene. Adesso per cominciare ad attaccare lui forte eh. Due minuti eh. Un braccio dino va bene eh. Ragio basso. Controlla. Davo. Senti. Fai un e mezzo. Fai un e mezzo. Attento Edo. Fai le prese. Fiazione. Un po' più attivo. Occhio, via quel braccio da là. Via quel braccio da là. Bravo. Va bene Gohardo, va bene. Edo. Ok, hai preso una facilità Edo eh. Ti sarai attento. Edo un minuto eh. Non devi prendere facilità e vieni. Con il sistema ci vediamo. Un minuto. Ok, via quel braccio da là. Via quel braccio da là sotto. Edo. Va bene? Va bene. Mettilo al bordo. Edo. 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 Stai ancora vincendo, stai ancora vincendo, devi attaccare qua, piedi, 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 no, piedi. Stai ancora vincendo, stai ancora vincendo, stai ancora vincendo.